Cari ladies and gentlemen della magia youtubesca, siamo veramente ormai agli sgoccioli dello spoiler completo di Wilds of the Drain. Non sai ancora quali sono le ultimissime figurine uscite in questi giorni? Beh, caro amico o amica, speriamo guascona, rimani in attesa di scoprirle esattamente adesso. Partiamo con Godric, Clocked Reveal, Cosa Tremmana, E33 Rapidità, Celebration. Fintetto che hai due o più permanenti non terra, sono entrati in gioco sotto controllo in questo turno, Godric, Clocked Revealer è un drago. Ah, con forza e costituzione, 4-4 volare e tappa uno rosso, guadagna più uno o più zero fino alla fine del turno. Hai capito? E ha pure rapidità. Cazzo, ma questo è grusso? Non è amico di Topolino, ma è Dottor Strange palese, ma è fortissimo. Sembra una carta molto forte in Limited. Molto forte in Limited. E per me è giocabilissima anche in Constructed. Per me questa la vedremo da qualche parte. Mi sembra proprio forte. Taken by Nightmares! Due neri e due in colore, istantaneo. Esile è una creatura a bersaglio. Se controlli un incantesimo, scry 2. Vabbè, questa è un'ottima rimozione da Limited, che ti fa pure card selection in cima al deck. A volte togliamo pure due DR, quindi è come se ci fossimo pescati praticamente carte in late game. Buona, ottima la carta. Molto forte questo Remuval. Sarà sicuramente un premium uncommon all'interno del limitazio di Wild Super Drain. Via! Flicka Coin con tre mana, istantesimo. Flicka Coin infligge un danno a un qualsiasi bersaglio. Crei un tesoro, pesca una carta, ti fa una sega. Come può fare tre cose questa carta? Ma sei pazzo? Come è possibile? Pluttissima questa. Tre mana, un danno, qualsiasi bersaglio, crei tesoro e pesca una carta. Ma mi sembra un po' eccessiva. Sarà forte soprattutto se all'interno del set ci saranno molte costituzioni a 1. Cioè se questo fai Remuval, Ramp e pesca è fuori di testa. Poi anche instant. Mi sembra una carta vergognosamente forte. Prismari Command. Sì, solo che fa un danno in meno. Ma è OP questa! Questa è una comune incredibile. Non vedo l'ora di provarla. Tra l'altro pure faccia spara così. C'è il dubbio se l'avversario ha 1. Boom! Gli spari di sopra e vinsa. Beautiful Griffin. 5 mana, 4-4 volare. E già è forte. Con tre mana. Sacrifica due incantesimi. Ti ritorna. Dal cimitero nella tua mano come scusa? Fortissimo questo. Fortissimo perché i incantesimi che possiamo sacrificare sono tutte le varie roll e te lo ripigli dal secchio. Quindi sarà facile fare il recursio. Non questo Beautiful che sembra quasi Beautiful. E quello sembra Brook effettivamente. Griffin. Carta molto potente della magia. Limitata ovviamente. Sì, anche a velocità instant. Tu ti puoi saccare gli incantesimi. Cioè l'ottima carta elegibile della magia. È un 6 mana, 6-7. Creatura gigante, guerriero. Non può essere bloccato da una creatura con forza 2 o meno. E non lo puoi champ bloccare questo qui. Questo 6 mana, 6-7. C'ha questa classica abilità evasiva da ciccione verde. L'avventura è una sorcery. E dice che distrugge con due mana un artefatto o un incantesimo. Quindi questo è spacca artefatto, incantesimo, più ciccione da late game. Le avventure mi fanno tutte bagnare moltissimo. E sono stanco di cambiare intimo ogni 5 minuti. Mentre leggo le figurine di Wilds of Eldraine. Gash Spellcaster. Gash, una delle carte più forti della storia di Magic. Elemental Wizard. Costo 4. Quando tu lanci un istantaneo o una stregoneria. Crea una Sorcerer Roll. Da attaccare su una creatura bersaglio. Che controlli. Questa sarà l'aspetto delle Roll. La creatura incantata guadagna più 1 più 1. E ha quando questa creatura attacca. Fa scrai 1. Beh, abbastanza forte direi. Sorcerer Roll. No? Molto. 4 mana 2-4. Che spamma queste Sorcerer Roll. Quando stai lanciando una magia istantanea o stregoneria. Mi sembra abbastanza forte. Questa fa un bel vantaggio. Fa tanto valore. Fortissima questa carta. Poi anche su se stesso diventa 4 mana 3-5. Molto facilmente. Agathas Champion. 5 mana 4-4. Bargain. Quindi al solito possiamo sacrificare un artefatto. Un incantesimo. Una pedina. Quando lanciamo questa magia. C'ha Trampol. Quando Agathas Champion entra in gioco. Se abbiamo fatto Bargain. Fight affino a una creatura che non controlliamo. Questa qua è molto forte. Creatura con fight incorporato nel verde. È sicuramente tra le migliori creature possibili che abbiamo all'interno del nostro ventaglio di frecce. All'interno del colore verde. Che questa volta sembra un colore vero. Per fortuna. Proveniamo da un set in cui era completamente putrido. Cioè era proprio vera verde perché ormai era marcio. C'erano cresciute i muschi e i licheni sopra. Adesso mi sa che abbiamo un verde. Che è un colore reale della magia. Per il futuro limited. Discerning finanzieo. 3 mana 2-3. Umano nobile. All'inizio del tuo mantenimento se un avversario controlla più terre di te. Crea un tesoro. Tipo fa la tassa sulle terre. Una specie. Hai capito? Con 3 mana scegli un altro giocatore. Quel giocatore guadagna il controllo di un tesoro che controlli. Peschi una carta. Minghe. Bello. Certo le stats fanno un po' kifus. Quindi questo funziona se sei partito on the draw. Perché recupera lo svantaggio delle terre. Tra l'altro la tassa sulle terre è una carta che stanno ristampando nell'archivio mistico di Wilds of the Drain. Esattamente adesso. Proprio ora ora. Cut in. Sorcery a costo 4. Spara 4 danni e una creatura a bersaglio. Crea young hero roll token. Su una creatura che controlli lo mettiamo addosso. Incantiamo così. Quindi è botto removal più hero roll token. Secondo me questa carta è abbastanza forte. È vero che è sorcery. Non è una cosa buona. Però c'è il valore della hero roll token così a gradis. A me piace questa carta. Brave the Wilds. Con uno verde sorcery. Bargain. Puoi sacrificare un artefatto di incantesimo una petina quando tu lanci questa magia. Se questa magia è stata barganazzata. Una terra bersaglio che controlli diventa una 3-3. E a rapidità fino alla fine del turno rimane una terra. Cerca nel tuo mazzo una terra base. La riveli. La metti nella tua mano. E mischi il mazzo. Ma minchia. Questa carta può essere forte solo in un mazzo profondamente specifico. Profondamente pieno di roll token. Altrimenti è una carta un po' del cacchio. Dici vabbè la vuoi giocare per splashare cose. Sì vabbè ma sono sempre carte un po' del cavolo. Cancellor of Tales. Quattro mana 2-3. Volare. Quando lanci un'avventura. Tu puoi copiarla. Puoi scegliere nuovi target per la copia. Questo è pericoloso. In pratica questo è un lucky clover. Con le gambe. Però ha un body veramente scarso. L'avevo letta a 2-4 inizialmente. L'avevo intraletta a 2-4. In realtà l'ho letta a 2-3 però. I miei occhi vedevano a 2-4. Minchia a 2-3 è brutto dai. Under stats male proprio. Secondo me pure troppo costosa. Certo di vantaggio ne fa. Nel momento in cui rimane in gioco. Questa deve esplodere velocemente. Però sì. Secondo me questa non è un... Secondo me sarà un filler. Non è una buona carta visto il suo costo di mana rapportato alla sua forza e la costituzione. In limited chiaramente. Incantesimo con 1-1 nero. When Hopeless Nightmare entra in gioco ogni avversario scarta una carta e perde 2 punti vita. Come scusa? Quando Hopeless Nightmare è messo in un cipitero dal gioco scrive 2-2 come scusa? Come scusa? Come? Con 3 mana sacrifica Hopeless Nightmare e basta. Ma lei è pazzo scusi ma scartino ha costo 1 e gli scippi pure 2 da anni. Ma com'è possibile? Ma che pazzo? Pazzissima questa carta. Pazza! Non lo so se costa troppo. C'è solo una persona che può rispondere a un quesito di tale difficoltà. Ilian risponde il servizio di segreteria telefono. Allora la carta è incredibile. Questo è il materiale migliore possibile per pagare... Binza! Bargain. Cioè tu stai scherzando che con un mana gli scarti una carta. Gli spari due danni in faccia. Poi te lo sacrifici con bargain. E fai anche scrai 2. Ma perché è comune questa carta? Senza senso? Credo che questa carta sarà forte sia in limited che in constructed. Ma pure in constructed questa carta sarà forte. Per forza. Ma che roba è? Fortissima! Mamma mia! Ma vergogna proprio. Vergogna di acqua di rose. Vergognati. Ma chi l'ha disegnata questa carta? Topolino! Secondo me l'ha fatta lui l'ha fatta. Con le forbici così. Senza occhi così cieco. 4 mana 3 volare. Beh non bellissimo. Andiamo a vedere cosa fa l'avventuva. Istantaneo. Avventura distruggi una creatura tappata a bersaglio. Fortissimus. Fortissimo. Vabbè ragazzi. Senti. È ovvio. Qualsiasi cosa all'interno di Wilds of the Drain. Sia una creatura avventura. È fortissimo. Sempre. Non è che c'è una volta in cui non è tipo una bomba. Sono tutte fortissime ste cazzo di carte. Sono tutte carte che fanno sempre due per uno. Cioè. Niente. Io piango. Io piango. Guarda. 5 mana 5-4. Menas. Vediamo l'avventura. Instant. A costo 2. Una creatura di bersaglio. Guadagna da double strike. Fino alla fine del turno. Ember Cleave sei tu. Quindi questo fa trick. Più grusso. 5-4 minacciare. Diciamo che. Forse è un po' più situazionale. Questa avventura. Ok. Magari non trovi la sua. Però minchia. Questa. Cioè. Ti fa chiudere anche sta roba. Cioè. Il double strike. È forte. Su una creatura. Fai un botto di danni. E poi c'è sta 5-4 menas. Così. A gratis. Anche questa ragazzi è forte. Mi piace di più l'altra. Più difensiva. Mi piace di più però. Domanda 2. 2. Picnic Ruiner. Delizioso. Questo pupazzo. In questione. Quando Picnic Ruiner. Attacca. Se controlli una creatura. Con forza 4. O più. Picnic Ruiner. Guadagna double strike. Fino alla fine del turno. Quindi è domanda 2-2 double strike. Se c'hai un grusso. Gruul. Ha la meccanica. Basata. Incentrata. Totalmente. Sul. Discorso. Delle creature. Con forza 4. Con 4 mana. Sorcery. Adventure. Distribuisci 3 segnalini. Più 1. Più 1. Tra un qualsiasi numero. Di creature. Bersaglio. Che controlli. Quindi questo. Spamma. Spamma pompaggi. E poi. È un pupazzo 2-2. Molto carino. Pure questo. Vabbè sì. Non sarà eccezionale. Però non è neanche brutto. Cioè sempre. Ci sono sempre carte forti. Alla fine. Queste. Queste avventù. Altra non comune. Quindi possiamo dirlo. Quest'oggi. Review. Di Wilds of the Drain. Incentrata prevalentemente. Sul formato. Più amato. Dagli italiani. Ma soprattutto. Dalle italiane. Il limited. Corvold and the noble. Tiff. Costa 4. Crea una pedina. Tesoro. Sia al. Turno 1. Che. Turno 2. Turno 3. Esilia le prime 3 carte. Da un. Dalla cima. Di un grimorio. Avversario. Arrido. Tu puoi giocare. Quelle carte. In questo turno. Ti dà due tesori. Quindi. Un turno hai frenato. Però gli altri due turni. Acceleri di fila. E quindi. A turno 5. Avrai 6 mana. Anziché 5. A turno 6. Ne avrai 7. Se ti sei spaccato del tesoro. A me non sembra schifoso. La first picco. 31. Agosto. Early access. Evento. Per gli streamer. Wild of the drain. Sarò qui. In live. Su Twitch. Con voi. Per voi. First picco. Questa. Vi faccio vedere quanto è forte. Va bene? Ah. Non l'avevo capita questa cosa. Ah. Non puoi spendere mana. Come se fosse di qualsiasi colore. Per lanciarle. Quindi mi devo tenere i tesori. Peggio. Peggio. Quello che è merda. Molto peggio. Molto peggio. Ti devi tenere per forza i tesori. E' una rottura di coglioni. Night of the sweets. Revenge. 3 in colore. 1 verde. E' incantesimo. Quando. Night of the sweets. Revenge. Entra in gioco. Crea un. Cibo. Una pedina cibo. I cibi che controlli hanno. Tappa. Aggiungi una mana verde. Come scusa. Bellissimo. Con 7 mana. Sacrifica. Night of the sweets. Revenge. Crea. Ture. Che controlli. Guadagnano PXPX. Fin fine del turno. Dove X è il numero di foodie. Che controlli. Attiva solo come sorcery. Capito. Quindi tu accumuli i cibi. I cibi diventano improvvisamente. Mox green. Mox emerald. Praticamente tu. E il cibo lo puoi tappare immediatamente. Appena lo giochi. Giusto. Certo. Quindi tu fai 4 mana. Questa roba. Metti un cibo. Tappi subito il cibo per un mana. Subito. Perché non c'è debolezza di evocazione. Il fottuto cibo. Ovviamente. Mickey e Mickey Mouse. Che deve aspettare un turno. Prima di poter passeggiare nella lore. Imox. Non ci vuoi dare acqua di rose. Imox. Da 6.000 euro l'uno. Su Magic Arena. E ce li dà così. Sotto mentite spoglie. Sotto forma di cibi. Il cibo che dà mana. Il mana che dà cibo. Simpatica questa. Onestamente. Neanche troppo. A me non piace. Poi come sorcery. L'abbia attivata. Una cosa horrida. Cioè questa carta mi eccita. Solo ed esclusivamente dal punto di vista di design. Cioè. È bella. Non puoi dire che è una carta brutta. È che il coraggio di dire che è una carta brutta. Cioè guardala. Leggi cosa c'è scritto. Sembra quasi una carta di Unhinged. Tipo. Che poi. Night of the Sweet Revenge. Capito. È la notte. Della vendetta. Dei dolci. Cioè sono i dolci che si incazzano. Si vendicano. E poi ti uccidono. Ti uccidono di cosa? Di diabete. Fin. Fairy Fencing. Costa 1 nero e x instant. Una creatura a bersaglio guadagna meno x meno x. Fino alla fine del turno. Guadagna un. In aggiunta meno 3 meno 3. Sempre quella creatura là. Se controlli una fatina. Mentre tu lanci questa magia. Un mana meno 3 meno 3 con le fatine. Quindi questo è un removal. Ogo efficiente. Senza fate. Diciamolo. Abbastanza sia instant. Abbastanza poco efficiente. Perché fare 3 mana meno 2 meno 2. Non a tutte le creature. Ma una soltanto. È molto poco efficiente. Se hai una fatina per sbaglio. Per terra. Vinta. 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 Un mana meno 3 meno 3. Instant non esiste. Va bene? Non esiste. Un 2 mana meno 4 meno 4. Le fatine ci hanno un botto di cose fortissime. Davvero. Un botto di tool incredibile. Limited forte. Anche fuori dal limited è forte questa in un mazzofatino. Questa è Rust Camer Mouse. Mouse. Ma sono dei sorci. Andiamo a vedere. Un mana bianco in colore. Creatura mose. Celebration. Armory Mice guadagna più 0 più 2. Fintato che 2 o più permanenti non terra entrano in gioco sotto controllo in questo turno. Quindi è 2 mana 3 1. Che diventa 2 mana 3 3. Giochi 2 permanenti. Questo a me non piace. Zero. Orrida secondo me questa. Una cagata totale. Poi sono nel tuo turno praticamente no? Nel senso di giocare 2 permanenti a velocità instant. Come cagazzo fai? Non lo vuoi fare. Quindi in buona sostanza c'è un orrido bloccante. Può essere un discreto attaccante. A me non piace questo. Interferenze inquietanzie. Quindi uno bianco e due in colore instant. Premieni tutto il danno che sta per esserti inflitto a te e alle creature che controlli dalle creature fino alla fine del turno. Una nebbia. Però solo per te. E nebbia solo per te. Particolare. Quindi ti salva il culo e i punti vita se ti stanno per uccidere o comunque se ti stanno facendo degli ingenti danni. E in più ti fa vincere una potenziale combat gigante della fa stravincere. Però mi sembra una carta estremamente situazionale. A me non piace. Si carta da altri tempi verissimo. Si in alcune situazioni ti fa vincere on the spot. Ma in altre... Penso che nella maggior parte delle situazioni sarà una carta del merda in mano. E dici ma perché non ho messo una terra in più dentro? Back for seconds. Costo 3. Sorcery. Bargain. Fai tornare fino a due creature bersaglio dal tuo cimitero nella tua mano. Se questa magia è stata barganizzata tu puoi mettere una di queste carte. Con questa di mana 4 o meno in gioco. Invece di metterla nella tua mano. Con c'è? Ma è fortissimo. Ma veramente? Ma che? Sballata figurina della magia. Ormai si risuscita che è un piacere nel gioco della magia. Posso dire che questo è forte anche in limited? O qualcuno si offende? Carta assurdamente forte. Già con tre mana riprendere due pezzi dal secchio... È buono. Ok. Però porca miseria risuscitarlo. Carta da Constructed anche appunto. Se chiamiamo nel cesso le cose più gruppi... Cioè un rianimino... Un rianimino che costa così poco... Tipo non esiste in Constructed da un sacco di tempo. Nei formati standard ovviamente. E questo lo fa. Certo non rianimi a trazza. Puoi tirare uno Shieldred un turno prima. Into the Fake Earth. Costo 5 Sorcery. Pesca 3 carte. Beh. Crea una pedina blu. Sbulazzante. Con volare. E questa creatura può bloccare soltanto creature con volare. Ah. Tipo Brasen Borrower. Però non può bloccare la stronza. Peccato. Però penso sia forte questa. Certo. È un token. Lo posso usare per Bargain. Lo posso picchiare. Ci posso picchiare l'avversario. Buona carta. Buona carta. Royal Treatment. Uno verde. Instant. Una creatura bersaglio. Che controlli guadagna ex-proof fino alla fine del turno. E siamo partiti non bene di più. Crea un Royal Roll Token impizzato a quella creatura. Più uno più uno e ward uno. Quindi questo è un mana. Più uno più uno. Ex-proof. Guarda. Ward uno. E ci abbiamo pure Laura addosso. Ci abbiamo pure Laura addosso. e possiamo sacrificarla con Bargain. Pradisan. Sei tu Pradisan. Ma sei tu o non sei tu? Ma questo è incredibile. Ma perché questi trick sono sempre più forti tutte le volte? Ma ne esce sempre... C'è una gara a chi ce l'ha più grosso il trick. Porca miseria. Carta incredibile. Multiformato palesemente. Tipo, no? Distracted. Limited. Chi più ne ha più ne metta. Fortissima figurina di Dio. Madonna. Attenzione. Elk. C'ho paura. Elk. Una delle tribe più terrificanti della storia di Magic. No, della storia dell'umanità. Andiamo a leggerlo. Quattro mana. Storm Elk. Elementale Elk. Quindi è un'alce fulminata. Ed è un 3-4 Trampol. Quando tu lanci una magia a un costo 5 o più, metti un segnalino su Storm Elk. Quindi quando lanciamo magie grusse, si ingrussa anche Luis. Quindi da 3-4 tratta 4-5. Poi 5-6. Avventura instant con uno blu e uno in colore. Pesca due carte e scarta due carte. Fare card selection. Di solito il pesca X scarta X, cioè pesca 2 scarta 2, pesca 1 scarta 1, pesca 3 scarta 3, è un effetto di merda. Perché all'atto pratico questa spell ti fa fare un meno 1 netto dalla mano. Tu peschi due carte e scarti due carte, più la carta che hai lanciato per giocare questo effetto. In questo caso, essendo un'avventura, non stai assolutamente facendo meno 1. Perché appunto è un'avventura e poi puoi giocare il tuo alce. Mi stai semplicemente facendo card selection nella tua mano. A costo 2. Questo è vero. Però a velocità instant anche. Attenzione. Forse è la prima carta avventura che non mi fa gridare al capolavoro. Dai, 4 mana 3-4, trample, più quell'avventura lì. No, non è eccezionale. No, questa... Meh. Attenzione. Questa è un'avventura tutta blu. Galvanic Giant. 4 mana 3-3. Quando tu lanci una magia con costo di mana 5 o più, tappa una creatura avversario controllata da un avversario. E metti uno stun counter su DS. Insomma. Con 7 mana però abbiamo un'avventura che si chiama Storm Reading. Ed è appunto un'avventura istandanea. Pesca Quarciocarte e poi scarta 2 carte. Costosissima, cazzarola. È tutto molto caro, sono d'accordo. Questa è proprio costosissima, sta carta. Pesca 4, scarta 2. È forte in late game fare pesca 4, scarta 2. Però mamma mia, che brutta la creatura. Cioè è tutto veramente troppo costoso. È tutto understats, è tutto troppo costoso. Questa è più da verde e blu, direi, questa carta. La rampi e poi c'è la meccanica del gioco alla spella, costo 5 o più e faccio qualcosa. Verde e blu ramp questa carta. Potrà dire la sua. Però sì, di base non è eccezionale. Grand Ball Guest. Uno rosso e uno in colore. Umano paesano, 2-2, Celebration, Grand Ball, Guest, guadagna più uno più uno e ciavolgere. Intanto che due o più permanenti non terra sono entrati sotto il tuo controllo in questo turno. Ecco, questo inizia ad essere già più incazzato rispetto al ratto putrido di prima. Sarà Boros la meccanica di Celebration. Questo già è decisamente migliore del ratti del topastro bianco. Due mana 3-3 Trampol inizia ad essere veramente grusso. E parte poi da 2-2 che è meglio che partire come una 3-1. Ok, questo è carino. Però sono un po' riluttante a credere che questa meccanica sarà tanto forte all'interno di questo limite. È chiaramente la meccanica aggro-aggressiva. Gli aggro avranno questa meccanica qui come base per pestare gli opponenti. Però non lo so quanto possa funzionare. Perché tutte le volte due permanenti, alla fine a una certa le finisci le carte. Vediamo. 5 mana 3-3 Volare. Quando entra in gioco crea un Royal Roll Token impizzato su un'altra creatura a bersaglio che controlli. Minchia. Che è più uno più uno e guardo uno. Mamma mia che fortissima. Eh sì, fortissima ragazzi. Questo è un ziluro pazzesco. 5 mana 3-3 Volare che baffi una creatura permanentemente con World 1. Non c'ha senso questo. Questo è un top di curva scandaloso nel bianco. Giulia Bianca potrebbe essere. Molto buono. Se non hai pezzi vuoi morire, è vero. Però se ce li hai è molto forte. Ma usciamo questi ratti che non li usciamo mai. Dove cazzo sono sti ratti? Ci sono intrufolati nelle fogne. Vediamo un po'. Harriet Spirgard, umana rosso, 1-1 rapidità. Quando crepa Harriet Spirgard, crea un ratto. Locanda! Locanda! Palese! Locanda! Va bene? Va bene? Torniamo strisciando? Ormai si striscia come delle bisce. Si striscia perennemente in Locanda, cazzo. Mamma mia, una Locanda pazzesca! Topolino conta come pedina ratto, eccolo qua. Esce dalle fogne, imputridito. Fortissimo, ragazzi. Questa è una carta sballata, proprio. Un mana 1-1 rapidità che caga il ratto. Questo è troppo forte. Questo è il drop a 1 del set. Carta schifosa, proprio. Fortissima. Comune di Dio. Sicuramente tra le migliori comuni del rosso. Altro ratto incazzato. Tremana 2-1. Creatura ratto. Quando Voracious Vermin entra in gioco, crea un ratto 1-1. Con questa creatura non può bloccare. Quando un'altra creatura che controlli muore, mette un segnalino più 1-1 su Voracious Vermin. Può essere una Giulia? Assolutamente sì. È più scarso delle ultime Giulie. I ratti manco bloccano, eh? Attenzione. Però può essere un lontano parente di Giulia, questa comune. Mi sembra una buona carta. Tra l'altro è un doppio ratto in gioco. Merce da sacrificio, per bargain, per altre cose. Inoltre sto ratto si incazza, poi. Questa è la cosa bella. Tu sacrifichi la pedina 1-1, questo diventa 3-2. Fa valore, fa vantaggio. Questa è veramente forte come comune, però. Non so se sarà la Giulia, però è candidata. Perché costa 3 mana, fa le cose, fa le cose che deve fare una Giulia che si rispetti. Una Giulia che merita il nome che porta. 5 mana 3-4. Mano stregonzio. Si chiama Twisted SeaWorld Witch. Quando entra in gioco, crea un ratto. E con, vabbè, al solito non può bloccare il ratto. Dopodiché, per ogni ratto che controlli, crea una Wicked Roll token attaccata a quel ratto. No! Questo buffa tutti i rati. Mamma mia! Mamma mia! Fortissimo! Quindi già praticamente lei fa 5 mana, 3-4, mette il ratto 1-1, più subito con Laura subito addosso. Quindi il ratto subito è 2-2. Se ne hai anche altri per sbaglio di ratti, diventano tutti 2-2 per sempre. E quando schiattano l'avversario perde una vita. Sono ratti esplosivi. Si fanno esplodere. Sono ratti kamikaze. La Laakbar fanno. Minchia! Pratisan sei tu, ma ti giuro. Se non c'è Master Mewal, finita. Sa, non comune del signore. Cioè, la cosa bella di questa carta è che non è forte solo se hai 100.000 ratti a terra. Certo, se hai 100.000 ratti a terra, hai vinto. Però, se non hai 100.000 ratti a terra... Cioè, questa è forte già per i cazzi suoi. Perché fai 5 mana, 3-4, più 2-2. Che in totale è tipo 5-6. Che cazzo vuol dire a questo 5? Che ha una bomba assoluta, vergogna. Sa, la non comune è assurda. Veramente assurda. The Legion of the Ball. 3 mana, 3-3. Celebration. All'inizio del tuo combat, del tuo turno, se due o più permanenti non terra sono entrati in un gioco sotto controllo in questo turno, al solito, una trara che controlli, guadagna più 1, più 0 e menas. Fino alla fine del turno. E, ok. Io ancora sono un po' riluttante a questa meccanica qua. Non mi piace moltissimo. Perché dipende sempre da qualcos'altro. Da quello che farai poi nei turni successivi. Cioè, non sono carte forti già per i cazzi loro, no? Non mi convincono. Non mi convincono. Però vediamo. Uno bianco, uno in colore. Le creature incantate dei controlli guadagnano più 2, più 2. Ok. Un inno glorioso con un sacco di steroidi nei muscoli. Mamma mia. Però soltanto per le creature incantate, ovviamente. Quindi per tutto ciò che ha roll addosso, in buona sostanza. Ci devi fare al mazzo attorno il limited con questa carta, se no non va. Quindi forse più carta da constructed, eh. Incantesimo, più 2, più 2. È tanto, veramente tanto. BV ratti. Sì, però soltanto con le H. Sì, quelli di prima. Quelli di prima, è vero. Non è poi avere tutte le creature incantate. A quel punto diventa una carta morta, troppo situazionale. Quindi, in limited, boh, non mi sembra eccelsa, ti dico la verità. Però in constructed, penso che possa essere una buona carta. Tre mana, Solidary Sanctuary. Disegno spettacular. Incantesimo. Quando entra in gioco, tappa una creatura avversario, controllata da un avversario, e metti uno stun counter su di essa. Di solito è qualcosa che fa il blu, questo. Non il bianco. Quando tu tappi una creatura stappata, controllata da un avversario, metti un segnalino, più 1, più 1, su una creatura che controlli. Bellino. Incantesimo di rimanere in gioco, puoi fare bargain. Però sì, certo, tre mana sono comunque tanti. Dagni semplicemente un tempo all'interno di un turno, non fa valore questa carta. E caruccia all'interno della meccanica della Zorius, ovvero quella del tappaggio delle creature avversarie. Se questo avviene, noi otteniamo un piccolo vantaggio. Cioè, sblocchiamo un bonus, ok? In questo caso il bonus è mettere un segnalino, più 1, più 1, su una creatura che controlli. A Zorius sarà un po' il mazzo di controllo all'interno di Wilds of Eldraine. Vedremo. Ciao mamma, sono in tv, guarda. Sono su New Spoiler. Jack Torrance 90. Eccola qua! Season of Growth. Uno verde e uno in colore. Incantesimo. Quando una creatura entra in gioco sotto il tuo controllo, scrai uno. Quando tu lanci una magia che bersaglia, la creatura che controlli pesca una carta. Questa è una ristampa con un disegno bellerrimo. Quando Acqua di Rose mi ha mandato questa figurina in privato, mi stava per venire un infarto di quanta bellezza tutta insieme era raggruppata su questa figurina. L'istampa, come avevo detto poc'anzi, di M20. Nel limited di M20 non ebbe granché successo. Chissà se all'interno di questo limited invece il successo ce l'avrà. Kellan's Blade. Uno bianco, uno in colore. Instant. Bargain. Spara tre danni, una creatura attaccante o bloccante. Se hai pagato il bargain, distruggi invece quella creatura. Vabbè, queste rimozioni sull'attacco, sul blocco non sono mai eccezionali. Lo sappiamo benissimo. In questo caso abbiamo anche la possibilità di fare bargain e distruggere una creatura qualsiasi. Sarà una carta discreta che la maggior parte delle volte non piccheremo, non vorremo, però talvolta, talvolta saremo costretti a inserire i nostri deck perché non ci sono passate esattamente mai delle rimozioni. Uno rosso e due in colori. Instant. Infligge X danni, una creatura avversaglio, dove X è due, più il numero di istantanee stranerie e carte con avventura nel tuo cimitero. Quindi è 3 mana, 2 danni, più X, dove sono instant source di avventura. Quindi questo è un removal. La velocità è instant solo su creatura, purtroppo. Fosse stato un botto oppure face, potevamo fare un archetipo solo stranerie istantanei. All'interno di questo limited, all'interno anche del futuro Pratisan, ovviamente. Un disegno semplicemente sconvolgente di quanto è bello. Bellissimo disegno. Stiamo tornando finalmente a fare disegni belli. Onestamente posso dire, è un po' sottotono nella magia, dal punto di vista artistico. Per quanto riguarda il mio gusto personalissimo. Con World of Eldraine per me stiamo di nuovo risalendo verso vette esplorate in passato. Che non esploravamo da troppo tempo ormai. Questa è una buona carta, penso. 3 mana, 2 danni, non è bellissimo. Però 3 mana, 3 danni, sa essere forte. Non è una buona carta. Se metti soprattutto molti istantanei sorcery nel mazzo è ottimo. Anche con le avventure si buffa. Quindi non sarà difficile fare più di 2 danni con sta carta. È buona. Pollen Shield Heart. Un mana bianco, un incolore e due due. Le creature pedine e controlli guadagnano più o più. Uno, ratto sei tu. Ratto sei tu. Uno, verde. Sorcery Adventure. Una creatura che controlli guadagna cautela e guadagna più xpx fino alla fine del turno. Dove x è il numero di creature che controlli. La faccia del cazzo. Con uno solo. Forte sta carta. Ma che sei pazzo? Selesnia Token vinta. Ma che carta è questa in Selesnia Token? Ma ragazzi, ma siamo pazzi. Ma tu ci pensi una carta del genere in Selesnia Token? Ci stai pensando in questo momento? Secondo me non ci stai pensando davvero. Leggila e poi pensaci. Com'è possibile? Vabbè, cioè veramente. Questa espansione è assurda. Davvero è assurda questa espansione. Una carta assurda per l'archetipo. Selesnia eventuale Token. Mamma mia. Uno verde e uno incolore. Incantesimo. Up the Beanstalk. Quando Up the Beanstalk entra in gioco e quando tu lanci una magia, questo di mana 5 o più, pesca una carta. Bello, perché questo si cicla. Questa è la cosa buona di questa carta. Di mana pesca 1 e poi successivamente pesca ancora Zuppa. Questa è la carta della Zuppa Verde micidiale. Viva la Zuppa Verde. Ti autocicla e poi ti pesca più carte in late game. Ogni ciccione che tiri ti pesca una carta. Mocking Sprite. Tre mana dove uno volare. Tantane le stranerie che lanci costano uno in meno. Così così. Tre mana dove uno volare è molto fragile. È bella. Cioè, sulla carta mi piace. Però è un po' fragilina questa carta. È una fata. Ha fata. Le fate sono sempre meravigliose, si sa. Secondo me questa carta sarà una dilusione. Una dilusione di diludendo. Secondo me questa carta è troppo fragile. Non fa valore. Sì, fa solo tempo, effettivamente. Però 2-1 muore con uno sputo. Quindi significa che questa carta... Ci saranno più modi per ucciderla con un mana. PS! Te la possono uccidere con tre mana. Uno rosso o due incolori. Spara un danno. Pesca una carta. Metti un tesoro. Fai così tu. Mugghi, pupi e te ne vai a casa. Per me è troppo fragile questo. Via. Via! Razeful Takedown. Uno verde, uno in colore. Sorcery. Qualsiasi numero di creature incantate e controlli. E fino a un'altra creatura, bersaglio e controlli. Infliggono danno, pare la loro forza a una creatura che non controlli. Vabbè, il classico. L'unione fa la forza. Quindi due creature infliggono danno a una singola creatura. Questo è un remual forte. Tra l'altro costa solo due mana, non costa tre, no? Non è instant, però è comunque una buona carta, secondo me questa. Un buon ottimo remual da verde. Prophetic Prism. Costo due, artefatto. Quando entra in gioco pesca una carta e poi fixa. Ristampa. Ottima carta di magic. Ottimo modo per fixare. Sarai all'interno di questo limited perché si cicla e poi ti fixa il mana. Secondo me il tricolor sarà abbastanza... No, il tricolor. Lo splash sarà abbastanza facile da attuare. Uno blu. Un incolore instant. Fino alla fine del turno. Una creatura che controlli. A forza costituzione. Quaccio quaccio. E guadagna volare d'ex proof. Madonna! Ma questa è fortissima, pure questa, cazzo. Questa è forte. Non si cicla, però è un ottimo trick. Solo ho tre utilizzi per questa carta. Uno. L'avversario di fare removal te la salvi perché non muore. Due. Tu attacchi una creatura, l'avversario blocca. Fai trick, trasformi in 4-4, vinci il trade. Tre. Lo fai pre-combat, trasformi una 1-1, un ratto putrido, in una 4-4 volare. Attacchi. Ex proof. E vinci. Quindi questa carta è incredibilmente potente perché ha ben tre utilizzi diversi. Freeze in place. Un mana blu, un incolore. Sorcery. Tappa una creatura controllata da un avversario. Metti tre. Ma troppi sono. E poi scrai due pure. Allora, questa carta ha senso di esistere, per quanto mi riguarda, solo in un archetipo. Questo archetipo è Azorius. È una carta che fa soltanto tempo su board. Ok. E fa anche card selection. È vero. Però fai meno 1 dalla mano. Perché fra tre turni, se non hai chiuso la partita, se non hai vinto, nel frattempo, quella creatura gli ritornerà di nuovo abile. Ok? Quindi vogliamo ottenere anche un vantaggio effettivo per poter sfruttare questa carta al massimo. E questo vantaggio effettivo si sostanzia all'interno della gilda Azorius. Perché tutte le volte che tapperemo qualcosa all'avversario, noi otterremo un bonus, un vantaggio di qualcosa che ci viene dato da un permanente, da una creatura che abbiamo per terra. Che appunto scomba in Azorius con la meccanica del tap. Mia figurina! Boundary Lens Ranger! Altra figurina spoilerazzata dalla mia persona nel mondo! Stiamo flexando? Certo, ne andiamo fieri. Molto fieri. No, non è vero. Onestamente speravo qualcosa di meglio da rivelare al mondo intero. Vabbè. Boundary Lens Ranger, uno rosso in colore all'inizio del tuo turno, nella combat del tuo turno, se controlli una creatura con forza 4 o più, tu puoi scartare una carta, se lo fai pesco la carta. Vabbè, è carina questa, senza infame e senza l'odd, diciamo, no? Come si suol dire. Cioè, alla fine ci sta la figurina. Cioè, due e due vaniglia all'inizio fa cose e poi in late game, in grullo purtroppo, in late game diciamo che ti funge da looter di tutte le terre putride che stai pescando perché Magic è un gioco orrido sotto certi punti di vista, no? E ok, è una good card. Non è una bomba, non è neanche brutta. Ci sta! Ecco, Boundary Lens Ranger! Con un disegno incredibile, palesemente rubato ai Masters of the Universe. Questo è l'uomo fatto di muschio, palese. 5 mana, 5-5. Quando Gingerbread Hunter entra in gioco, crea un cibo. 5 mana, 5-5. Quando entra in gioco, crea un cibo. Guarda quanto è venoso. Io non l'ho mai vista così tante nere, tutte insieme. Vabbè, l'avventura che fa è un istantaneo. Costo 1 nero e 2 incolori. Una creatura a bersaglio guadagna meno 2-2 fino alla fine del turno. 3 mana, meno 2-2. Faccio removal e poi turno 5 e faccio un 5-5. Più e 4-5. Che mi mette un food, che mi fa guadagnare vite e poi successivamente mi fa saccare il food per bargain. Mi sembra un'ottima... non comune questa, molto forte. Il verde-nero, secondo me, può essere un ottimo archetipo. Ottimo archetipo. C'è da vedere se sarà meglio verde-nero o verde-blu. Sembra un angelo caduto dal cielo. Vabbè, non esageriamo adesso. Come vestita quando entra il sassopono blu. Sì, è blu, è vero. Ma si annoia accoggiata uno specchio. Conce! Ma è pazza, scusi, ma come fa a saperlo? Signora nada, ma che fa? Ci sfia. Ma che fa l'urca dalla finestra, ma che... Ehi, va dead nella stanza. Due mana, volare, 1-3, cautela. Con uno blu e uno in colore, istantaneo, avventura. Milla quattro carte, poi metti un istantaneo, una stremeria o una fata, tra le carte millate, nella tua mano. Ho paura pure io. Carino, molto carino. Poi ti fa il self-meal, può essere pure una cosa abbastanza forte. Se fai un mazzo molto spelloso, istantaneo, istantesimo, come dire, è basato su un cimitero... Se vuoi riempirlo, il cimitero di istantaneo, 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 questo ti aiuta anche negli intenti, no? E poi questa fatina 1-3, volare. Certo, la fatina 1-3, volare, cautela, è un po' una minchiata come carta. Non è eccezionale. Non grido al capolavoro, onestamente, però è caruccia. È il topo della savana. Un mana 2-1, mouse, Pradisan, palese, con l'anello in bocca. Quick Buy è un'avventura sorcery a costo 1. Una creatura che controlli guadagna più 1-1 fino alla fine del turno. Non può essere bloccata da una creatura con forza 3 o più in questo turno. È incredibile, ragazzi. Un leone della savana che c'ha pure un effetto del genere. Cioè, voglio dire, va, inchia, palese comune. No, no, non comune, fortissimo. Questo è ottimo in aggro, ragazzi. Leone della savana bullizzato male. Un disegno di una bellezza rara. Posso dire che vinci facile tutte le volte che fai una carta blu che sta combattendo contro qualcosa di rosso. Posso dire che se su qualsiasi carta fai una merda pure disegnata da un bambino ma se gli metti un'onda energetica blu che contrasta un'onda energetica rossa che è una cosa che non si vede mai. Tutte le volte che succede, però, guarda, è un win assicurata proprio. Uno blu, un incolore, spell stutter. Neutralizza una magia, a meno che il controllore non paga due più uno per ogni fatina che controlli. Non è una ristampa! Ed è bellissima questa carta. Il mazzo fatina ovviamente sarà ottima, sarà fortissima. In generale è un tool che viene dato a tutte le fate del mondo della magia per tutti i formati eventualmente. Power! C'è chi dice qui in chat, chi lo sa. Io, onestamente, non sono abbastanza esperto di power per poter affermare ciò. C'è già, appunto, la sprite che mette pure un pubazzo 1-1 volare. Carta incredibilmente potente. Probabilmente non c'è bisogno anche di questa. Chi lo sa! Meglio counter spell secco, no? Pelskorn Coven, storto. E quello è parecamente uno Shinigami. Quattro mana, due tre volare. Quando entra in gioco, ogni avversario scarsa una carta come scusa. L'ho capito? Come? Come? Con tre... Già era forte così, cazzo. Già era forte così, non c'era bisogno dell'avventura, va bene? Take it back. Con tre mana instant. Counter. Cosa? Cosa? Ma come counter? Counter! Ritorno la magia nelle mani. Remand! Remand! E poi ti viro il mostrum. Come? Non ho capito. Ma che sei pazzo! Sì, vabbè, questa è sballata. Ti giuro, Cristo, se è forte questa. Mamma mia! E poi lì gliela scarti, capito? Sì, gliela scarti sul serio. C'è una carta in mano. T'ala rimando. Poi la gioco. E te la scarto. Ciao, addio, muori. E quindi, cari ladies and gentlemen della magia youtube esca, questi erano gli spoilerazzi micidiali di quest'oggi. Ci siamo concentrati, come avete potuto ben vedere, sulla magia limitata, nonché del formato più bello in the world. Scrivi qui sotto nei commenti, che non lo fai mai, quali sono, secondo te, le figurine... Anzi, no! Scrivi, secondo te, quale sarà il colore più forte nel limited di Wilds of Eldraine e il più putrido? E quale sarà la locanda assoluta? Scrivi, secondo te, quale sarà la locanda assoluta?